Andai Bagnani, innanzitutto come stai? Sii fermo da un po'? In che percentuale è la tua condizione se dovessi dare un numero? 60-70%? Fisicamente sto bene, quindi fisicamente sono al 100%. Poi se si tratta di condizione da partita ovviamente non sono al 100% perché sono stato infortunato tutta la stagione, quindi quella la riprenderò in questi giorni a Folgaria. Senti, hai cambiato squadra, sei passato a New York, cosa ti aspetti da questa nuova avventura? Beh, a New York sono contentissimo di essere a New York, prima di tutto. New York è una squadra molto forte, stiamo facendo una squadra per vincere e per arrivare fino in fondo, quindi sarà una squadra estremamente competitiva e ci divertiremo. Danilo Gallenari ti ha già dato delle dritte su New York? Si, abbiamo parlato un po' di zone dove andare a vivere, della logistica. E agli europei sogni di alzare un trofeo che per la nazionale manca da più di 10 anni? Io sogno sempre di alzare i trofei, però è successo poco fino ad ora, quindi abbiamo un buon gruppo, il talento c'è, quindi dobbiamo lavorare tanto, essere umili, dobbiamo sapere che veniamo da un'esperienza molto negativa, l'europea di due anni fa, e quindi con la testa bassa lavorare. Grazie mille. Grazie Andrea. Ciao, ciao. Ciao.